Caos agli uffici di via Guglielmo Marconi a Torre del Greco per il rinnovo delle esenzioni ticket. Un copione che puntualmente si ripete. Cittadini da giorni in fila per ore. Disagi e tempi lunghi non più sopportabili, soprattutto per le persone anziane. Le esenzioni sono scadute lo scorso 30 settembre e per il rinnovo bisogna recarsi allo sportello, laddove i medici di famiglia non abbiano già provveduto in automatico. Gli sportelli che sono aperti da lunedì al venerdì di mattina, i due pomeriggi, martedì e giovedì alla settimana, quotidianamente smaltiscono 30 pratiche e molti utenti sono costretti a tornare a casa dopo ore di attesa senza aver risolto niente. Il sindacato dei pensionati della CGL ha già annunciato che chiederà urgentemente un incontro con il nuovo direttore del distretto 57, Plesso Bottazzi, per far fronte alla problematica. Grazie per la visione!